e la prole? la prole come sta? eh? dite, dite, mi appresti andami Spago? Spago in allastichetto va bene lo stesso io mi domanda dico ma io più cretino di te come lo potevano mandare? no non ci stava nessuno un'emozione profonda, viva il colonnello Batacca e viva l'Italia, grazie ma che sparatoria? ma come che sparatoria? al teatro l'altra sera, non sapete niente, è stato un magico si lamentano morti e feriti, eccellenza! oddio, i morti quando siamo andati via non si lamentavano mai feriti scusate però marescia io non ho capito tanto bene, Natale di domenica fu domenica la magia e è morta sei mesi fa, fino a sabato? no non tengo né fratelli né sorelle neanche genitori, sono ovviamente l'adotto, anzi sono figlio di un'azia figlio di un'azia? ma che dite sposa? ma si dite, quella era una badessa, stava... ai convento? no, ai convento ma che cazzo? ma cosa dite? sposa? ma dite come parlate? no scusate, io mi chiamo Michele ma per esempio, facciamo che tu di nome fai Antonio come lui di nome fa Antonio, di nome lui fa sabato e non possiamo fare un esempio con Michele? rimbata al piccino no, vado il po' Presidente, questo secondo me è una pallina di cesse vabbè chi è sempre più caldo di toolbox? che vuoi? chi sei? ma come? anche voi adesso? non potete, non dovete, se anche voi mi rinnegate io per questa finestra mi burde, ma che burde che siamo in grandina? eh eh, comunque i pantaloncini sono di gran moda eh, moda botana beh, come sei questo profumo vado a vedere vado a schiuma con la roba dunque, ci può andare in questo cinema, questo padre di famiglia senza arrossire, eh? perché vede questo cinema se vedi che cos'è? è un cinema ma non c'è, ma come? è un mordello, capitano un mordello è un mordello è donne nude, atti sessuali, quanto non incestuosi questo è quel cinema questa è la realtà in cui viviamo per una malintesa idea di libertà che non è più libertà, ma solo licenza chiaramente è uno pronto presto, prendete tutti gli uomini che avete circondate l'edificio, arrestate la criminale un pezzo nero e mostrini rossi dall'ombra della mia tedrale bene ma cosa stavi facendo capitano? ma scusami ma su veloce stando così le cose rivolgo anch'io i miei pallocchi e tutto ciò che mi è stato ripreso ecco le industrie con sorelle eh, sorella che? con sorelle cioè quelle industrie produttrici, quel detersivo al limone eh, è qua, è qua la chiave di tutto fuori qui signori evidentemente è vero non avete considerato lo status quo chi è stato? qui qua dico qua ma che c'è che fa bene in ora? ma voi status quo signori latino status quo evitato eh, ricardo lasciamo stare sto latino io non ci capisco più niente qua perchè tu parli, parli, parli ma noi non abbiamo concluso niente eh, avanti avanti